L'approccio del Demani è stato un approccio estremamente pratico, nel senso che sostanzialmente è partito da un ragionamento del patrimonio disponibile, un patrimonio disponibile che abbiamo in pratica riletto sulla base anche di quello che era tra le ipotesi di razionalizzazione degli uffici, che abbiamo riletto alla luce del federismo demaniale, che abbiamo riletto alla luce del federismo culturale e quant'altro. Questa rilettura ci ha portato anche a una lista, in modo molto semplice da dire. Questa lista è formata da 1.600 beni che stanno in un contesto più che altro di operazione di razionalizzazione del patrimonio, 1.600 di cui 1.200 già stiamo procedendo alla vendita perché è la vera razionalizzazione del patrimonio, perché non si tratta di beni di piccolo valore che comunque possiamo vendere anche autonomamente e che probabilmente è anche l'occasione per fare una razionalizzazione e un concetto più attuale dell'uso del patrimonio, mentre la restante parte sono quelli che abbiamo proposto ai fini della formulazione del decreto, primo decreto del Ministro dell'Economia, secondo decreto del Presidente del Consiglio, che detterà anche le modalità di vendita. Quanto alle modalità di vendita, il ragionamento che stiamo facendo è quello di rendere il più aperto possibile, il più trasparente possibile tutto il processo e quindi stiamo individuando, abbiamo già individuato e fatto una convenzione con il notariato per quanto riguarda le modalità di vendita, si troverà tutto online, abbiamo fatto una sezione dedicata del sito, c'è un passaggio che secondo me è importante da rilevare che è quello che è sì un'operazione di vendita ma è un'operazione di valorizzazione, perché vendere significa valorizzare, cioè oggi in effetti ha molto più senso mettere sul mercato e consentire la valorizzazione di certi beni che a oggi sono poco manutenuti perché non ci svolge una funzione pubblica e quindi creano una serie di problemi e ne creano altri anche alla stessa città che sorge attorno e invece la vendita, la messa sul mercato può essere un'occasione per dare una seconda vita a questo bene, proprio perché questo bene ormai non ne ha.